Il numero delle vittime del terremoto ufficialmente recuperate in Nepal si avvicina alla cifra di 6.000, ma a cinque giorni dalla scossa che ha sconvolto il paese si continuano ad estrarre persone ancora in vita. Pemba Lama, 15 anni, era rimasto bloccato sotto una lastra di cemento prima di essere recuperato dai soccorritori e ricoverato in un ospedale da campo. A volte sentivo dei forti rumori, anche il rumore delle ruspe. All'improvviso ho visto filtrare la luce e mi ricordo di aver pensato che fosse una allucinazione. Un po' alla volta anche i villaggi isolati cominciano a ricevere le squadre di soccorso, come nella regione di Gorka, vicino alla zona dell'epicentro. Abbiamo perso tutto col terremoto, l'alloggio, le bestie, i vestiti, ma il governo non fa niente per aiutarci. In tutto il paese sono ormai numerosi, senza tetto, che si sono messi in viaggio verso posti meno insicuri. Grazie. Grazie. Grazie.